Eccominato uno, che cosa è bella la frase, eccominato uno a Trieste, che era uno, sono uscita dove ero militare a Trieste e avevo visto questa qui, con le tette ben piazzate, quanto è buona questa qui, mi sono avvicinato, gli amici sono un po' allontanati, gli amici i miei, dalla casembra, e io mi sono avvicinato, quanto vuoi? Ha detto 10, il tempo diventato dici, allora, allora, andiamo, ero andato, ho una via, ho cominciato a toccare da qua, e era un froscio, questo qui. Grazie.